Notte di terrore in una villetta indipendente a Lucrezia, in via Pilone. Tre banditi hanno immobilizzato prima e rapinato poi, con la minaccia di un coltello, la famiglia Paolini e Santi, madre e due figli, alle due della notte scorsa. Il racconto della signora Laura, 71 anni, è lucido ma nei suoi occhi, ancora si legge la paura e lo spavento appena passati. Se li hai ritrovati sopra di lei, che tentavano di immobilizzarla, svegliata dalle urla del figlio che stava subendo la medesima sorte e che dorme in camera con lei. Erano due furie, ci racconta con gli occhi sgranati, uno sembrava il demonio e ho gridato lascia stare lui, prendi me, prendi me, lascialo stare, lascia mio figlio. Ma di demoniaco in quel momento non c'è nulla, ci sono solo tre banditi in casa che frugano dappertutto alla ricerca di soldi ed oro. Per introdursi nella palazzina hanno prima tentato di forzare una delle finestre esterne della casa, ma poi hanno deciso di entrare dallo scantinato della villetta, calandosi in una bocca di lupo e poi sono saliti nelle camere da letto. Anche l'altro figlio, che dorme al piano di sopra sentendo le urla, è sceso in soccorso, ma ha subito la medesima sorte. Con la minaccia di un coltello si fanno consegnare la chiave di un cassetto del comò e li trovano il tesoretto, con tanti e oggetti d'oro per svariate centinaia di euro. Ma prima di andarsene terrorizzano ulteriormente madre e figli, rannicchiati tutti nello stesso letto, ordinandogli di stare zitti e di non urlare, sempre sventolandogli sotto il naso la lama del coltello e di non muoversi e non seguirli. Laura e i suoi due figli rimangono lì per una mezz'oretta, immobilizzati dal terrore, ma poi verso le tre si sono decisi a chiamare i carabinieri, che ora, sotto la guida del capitano Alfonso Falcucci, indagano sulla rapina in stile arancia meccanica. Dalle rapine sul videogioco a quella vera, il salto dalla finzione alla realtà è stato molto breve per uno dei sei componenti, il cui soprannome era appunto Game Player, della banda che i carabinieri hanno assicurato alla giustizia con l'operazione Game Over, dopo sei mesi di faticose indagini. Il 3 marzo scorso il gruppo compie una rapina a mano armata nell'ufficio postale di Pieve di Cagne, dove utilizzano una 1 bianca per darsi alla fuga, ritrovata poi abbandonata dai carabinieri, assieme ad un cappellino ed un paio di occhiali utilizzati per la rapina. È da questi scarni elementi che parte tutta l'indagine dei militari per individuare i sei responsabili, quattro uomini, esecutori materiali della rapina e due donne con ruoli marginali. Da lì sono partiti degli accertamenti che dall'intestatario dell'autovettura che aveva patito il furto alcuni giorni precedenti e grazie anche alle attività investigative poste in essere dalle stazioni carabinieri di Sant'Angelo, Invado e Urbania, abbiamo individuato una stretta cerchia di soggetti che poi, insomma, andando a stringere abbiamo trovato implicati a vario titolo appunto nella consumazione di questo efferrato delitto. Un bottino magro di 560 euro, se pensiamo che comunque la cassaforte dell'ufficio postale deteneva valori ben più alti poiché in quella giornata venivano pagate le pensioni ed era probabilmente il motivo per il quale i soggetti avevano deciso di attaccare quell'ufficio postale in quel giorno e quella determinata ora. Diciamo a salvare l'ufficio postale da un danno patrimoniale certamente più grave è stata la procedura temporizzata di apertura della cassaforte che dura circa 15 minuti. Tempi e modi sbagliati fanno quindi pensare a una banda un po' improvvisata e messa su per l'occasione ma questo non attenua la pericolosità sociale dei componenti in sodalizio che erano già ben conosciuti per atteggiamenti aggressivi dalle forze dell'ordine. Erano ben conosciuti nel territorio, imperversavano tra Sant'Angelo Invado ed Urbania ponendo in essere una serie di comportamenti che destavano particolari allarme sociali. Erano conosciuti anche alcuni per gli alias che abbiamo fornito nel corso della conferenza e sicuramente possiamo dire che questa esecuzione in qualche modo può tranquillizzare la comunità locale nell'aver assicurato almeno ai successivi accertamenti che la giustizia vorrà fare adesso questi sei soggetti. Buone notizie per il comune di Pergola e di suoi gioielli. La regione Marche ha stanziato 100.000 euro per il Museo dei Bronzi Dorati. Il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche Renato Claudio Minardi commenta una promessa mantenuta. Avevo presentato nello scorso mese di giugno una interrogazione in Consiglio regionale per conoscere come la giunta regionale sarebbe intervenuta per valorizzare il settantesimo anno dal ritrovamento dei bronzi dorati di Pergola. L'assessore Pieroni si era impegnato proprio in Consiglio regionale rispondendo alla mia interrogazione a destinare delle risorse per l'esattezza 100.000 euro per valorizzare il Museo dei Bronzi di Pergola. Oggi queste risorse sono una realtà. Al di là delle affermazioni di qualcuno che non credeva che queste risorse sarebbero arrivate dicevo sono una realtà perché la giunta regionale nei giorni scorsi ha deliberato di destinare questi 100.000 euro al Museo di Pergola e credo che sia una grande occasione di valorizzazione non solo del Museo di Pergola ma anche turistica del territorio perché Pergola insieme a Frontone, insieme a Fonte Avellana, insieme a Mondavio non sono solo siti culturali ma sono luoghi da visitare e quindi anche di sviluppo turistico. Naturalmente l'impegno è importante perché non solo Pergola ha avuto questo riconoscimento ma anche Urbino, le risorse destinate alla data per 1.100.000 euro, Urbania per 350.000 euro per il Palazzo Ducale e Mondavio per 370.000 euro per la Rocca Roveresca. Un'opera d'arte è un investimento oltre che economico anche morale dato che può essere il mezzo per dar modo al nostro spirito solidaristico di potersi esprimere. Acquistare un'opera d'arte di un artista locale per abbellire il proprio spazio vitale e contemporaneamente finanziare i progetti didattici di una scuola del territorio non è niente di più facile in questo periodo. A Palazzo Bracci Pagani, nella sala Ipogea, in questi giorni è stata allestita una mostra di artisti locali che hanno messo a disposizione il loro talento a costo zero per la scuola di Bellocchi. C'è stata una generosità spettacolare da parte degli artisti fanesi che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra che secondo noi è bellissima. Abbiamo avuto anche un sacco di riscontri ed è tutto a fine benefico perché poi i proventi di questa mostra che sarà tramutata in asta domenica 9 ottobre alle 17 i proventi appunto arriveranno alla scuola di Bellocchi per reinvestirli in progettualità differenti tra cui il progetto Coro e altri progetti che comunque conduciamo in tutto l'anno scolastico e per tutto l'anno scolastico. Ringrazio la responsabile di questo progetto che si è spesa tantissimo insieme a tutto il corpo insegnante della scuola primaria di Bellocchi che è Cristina Francolini. Orario e tempi di questa asta? Allora l'asta si terrà domenica 9 ottobre alle ore 17 fino ad esaurimento della merce, dei quadri per cui vi invitiamo veramente a partecipare numerosi perché oltre la bellezza c'è anche il fine di aiutare una scuola che comunque negli anni progetta e produce progettualità interessanti. Dall'8 al 15 di ottobre a Fano si terrà l'edizione 2016 della settimana africana regionale giunta alla sua diciannovesima edizione e come ogni anno sabato 8 verrà consegnato il premio o l'Africa nel cuore nella sala del Consiglio Comunale. Anche quest'anno ritorna la settimana africana regionale e la vostra onlus è in prima linea per questo evento così importante. Sì, anche quest'anno continuiamo con la diciannovesima edizione della settimana africana che verrà aperta sabato 8 ottobre alle 15.30 con la consegna del premio l'Africa nel cuore a Mimmo Lucano, sindaco di Riace. Un comune virtuoso per quanto riguarda l'accoglienza perché è un comune che conta 2.000 abitanti di cui più di 200 sono stranieri. Proseguiremo poi al Cinema Politeama alle ore 18 con la proiezione del documentario film Fuoco a Mare. Tutta la settimana poi appunto dal 9 fino al 15 ci saranno appuntamenti in vari punti della città. Il 9 ottobre saremo con un torneo di calcio a Villa Marina, il lunedì al Circolo Arci con la presentazione del libro di Leonardo Parmisano, Ghetto Italia e poi proseguiremo martedì con l'ospite importante per noi Stefano Liberti, un giornalista che presenterà il suo nuovo libro. Tanti appuntamenti poi per i bambini, alla Mediateca Montanari delle letture ad alta voce, un laboratorio di cucina sul Marocco per chi vuole conoscere sia la cultura marocchina che alcuni dei suoi piatti. Poi concluderemo sabato 15 ottobre nella zona del Pincio come ogni anno con l'evento che chiamiamo La Notte Nera. Inizieremo dalle 16.30, ci saranno anche qui dei laboratori per bambini, ci saranno la premiazione del torneo di calcio e vari concerti e musica con il coro gospel, i percussionisti di What's Afro, il gruppo Soul composto da richiedenti asilo e il gruppo che attendiamo di più, che è un gruppo di Ancona, si chiamano Riciclato Circo Musicale, si esibiranno appunto al Pincio sabato 15 ottobre. Ci sarà anche la cucina sia africana che tradizionale e da bere, estende le associazioni. Quindi vi aspettiamo tutti a tutti gli appuntamenti che potrete vedere nel sito internet dell'associazione l'africachiama.org Grazie a tutti.